Ai telespettatori di Rete Veneta e ai cittadini, agli amanti dell'arte e della cultura, apriamo col consigliere Cataneo questo edificio e lo mostriamo come uno dei più bei gioielli che la città di Vicenza ha. Il Boccalotti è una struttura che risale al 1400, lo apriamo per far vedere alla città qual è il gioiello che si nasconde dietro questa porta. È un'opera meravigliosa. Ma che per le ristrettezze economiche dell'IPAB, proprietario dell'immobile, non può mettere a bilancio le ingenti spese di restauro, a partire dal rifacimento del tetto, dove l'acqua ha già cominciato ad intaccare il prezioso soffitto a cassettoni. Per questo Roberto Cataneo ha presentato una interrogazione al Consiglio Comunale. Con l'interrogazione ho voluto che l'amministrazione comunale si metta al fianco dell'IPAB per ristrutturare questo bellissimo angolo della nostra città. Viene inaugurata nel 1414. Qui non è una chiesa, è un luogo religioso, ma è anche il luogo di incontro dei soci della fraglia, questa specie di organizzazione religiosa di produttori di terraglie. Auspichiamo che non siano solo le istituzioni, ma siano anche i semplici cittadini, gli amanti della storia e della cultura che possono partecipare. E credo che sulla iniziativa di Cataneo si possa veramente costituire un'accordata di istituzioni, di cittadini, di uomini della cultura, di associazioni varie. Credo che con 150 mila euro si possa metterla per fare il primo step. Chiudiamo le porte perché purtroppo non sarà più a disposizione fino alla sua riapertura vera. La riapertura vera ce la faremo con l'aiuto di tutti quando otterremo il finanziamento di 150 mila euro.